bentornato gutier bentornata è il momento di un nuovo salto un nuovo passaggio al sistema operativo che è stato rilasciato ultimamente dalla microsoft e windows 10 windows 10 è stato rilasciato in data 29 luglio 2015 con una release indicata con la sigla 10.0.10.240 molto più semplicemente 10.240 la microsoft con windows 10 attuato un cambio drastico nella gestione del sistema operativo e degli utenti fatto fondamentale è che viene data la possibilità di ottenere un nuovo sistema operativo in maniera completamente gratuita a tutti coloro che possiedono un prodotto genuino o di windows 7 o di 8 e quindi 8.1 questo se il passaggio però avviene entro la data limite del 29 luglio 2016 dopo tale data se non ci saranno novità da parte della microsoft il sistema operativo windows 10 diventerà pagamento per tutti come lo sono i precedenti sistemi operativi un'occasione quindi da non lasciarsi scappare in quanto la copia sarà nostra vita in teoria a meno di un cambio drastico dell'hardware oppure di un guasso del pc in quanto il prodotto è strettamente collegato alla configurazione hardware in secondo luogo questo sistema operativo sembra che la microsoft lo intenda come un servizio e non come un semplice sistema operativo lo vuole uniformare a tutti i dispositivi in funzionalità e aggiornamenti infatti le varie versioni le varie edizioni per le utenze standard non per sviluppatori naturalmente non avranno la possibilità di bloccare gli aggiornamenti quelli che normalmente si eseguono con windows update solo per alcune edizioni potranno rinviare tali aggiornamenti ma non impedire la loro installazione per un discorso di sicurezza va più che bene naturalmente in quanto la base per la funitura di un servizio efficace e ragione ovviamente sicuro per l'utente finale quindi per noi è proprio mantenere il sistema operativo aggiornato di contro però per mia esperienza ho visto che l'impossibilità di gestire gli aggiornamenti porta a dover subire installazioni anche di aggiornamenti quindi upgrade per programmi che non utilizziamo se alla cieca lasci che tutti gli aggiornamenti vengano eseguiti tramite windows update senza filtrarli quindi senza spuntarli avrà installato anche programmi che normalmente non utilizzi come può essere ad esempio hotlook se non lo utilizzi sul tuo sistema operativo o internet explorer se non utilizzi questo browser e così per tutti i software rilasciati dalla macrosoft e particolar modo per il pacchetto office proprio per queste situazioni non vorremmo in seguito vedere eccessivamente appesantito il sistema operativo trasformandolo in un software molto lento le edizioni quali sono anche se ne sono state rilasciate ben sette di versioni in ambito domestico e lavorativo quelle che probabilmente ci troveremo davanti sono sostanzialmente due per i desktop a cui aggiungerei la versione mobile per chi ha un dispositivo mobile uno smartphone avremo equipaggiati la versione home per uso personale la versione professional per uso professionale e la versione mobile per i dispositivi mobili nella pagina dedicata trovi i paragoni tra le varie edizioni nelle note dell'episodio metterò alcuni link di collegamento proprio per visionare quanto espresso durante questa guida tornando a parlare del possibile passaggio a windows 10 dai precedenti sistemi operativi diciamo che in base al sistema operativo originale potrai ottenere una versione specifica questa tabella evidenza un po la situazione se hai le versioni windows 7 starter home basic e premium accederai a windows 10 home per la versione windows 7 professional ed ultimate potrai accedere direttamente alla versione windows 10 professional in ambito windows 8 per windows phone 8.1 avrai windows 10 mobile per il semplice 8.1 potrai ad accedere all'edizione windows 10 home mentre per le altre due professional potrai accedere direttamente all'edizione windows 10 pro ripeto tutto in maniera gratuita se lo esegui prima del 29 luglio 2016 e se hai un product key genuino quali sono i requisiti naturalmente l'hardware in tuo possesso potrebbe non essere adeguato a supportare windows 10 anche se questa eventualità è abbastanza difficile comunque dal sito della microsoft puoi visionare i requisiti minimi per accedere all'aggiornamento gratuito e qui riporto in rapida successione per il sistema operativo devi avere installato windows 7 con il service pack 1 oppure windows 8.1 update il processore deve essere almeno di un gigahertz come velocità oppure superiore devi avere un quantitativo di ram di un gigabyte per i sistemi a 32 mentre se hai un 64 bit devi ovviamente avere almeno due gigabyte di ram spazio sul disco rigido richiesto sono 16 o 20 gigabyte se hai una struttura a 32 bit o a 64 la scheda video deve aver installate le versioni successive con driver vddm 1.0 ed infine una possibilità di visualizzazione grafica del monitor di 800 per 600 dpi per eseguire l'aggiornamento online aggiungo che è richiesta una connessione ad internet naturalmente e dato che windows 10 è un file di grosse dimensioni circa 3 gigabyte dovrai valutare attentamente il download se hai una connessione a consumo inoltre per l'effettiva possibilità di aggiornare un dispositivo devi calcolare che dipende da fattori quali il supporto dei driver e firmware e la compatibilità delle applicazioni e le funzionalità supportate perché magari potrebbero non essere stati rilasciati firmware o software compatibili con windows 10 potessi infatti avere problemi a questo punto a comandare le periferiche in mancanza di driver non compatibili per i programmi installati anche se sussiste tale possibilità mi sento di dire di non preoccuparti più di tanto a meno di un software particolare non dovresti avere problemi a trovare l'ultima versione adeguata e compatibile per windows 10 alcune funzionalità di windows 10 per poter essere utilizzate necessitano di un account microsoft e quindi con il sistema operativo avviato in questa modalità e non con un account in locale questo per conoscenza la release rilasciata al luglio 2015 è stata già aggiornata ad una nuova denominata 15 11 o come sigla di release 10 586 il rilascio avvenuto il 12 novembre del 2015 quindi attualmente installerai se già non l'hai fatto questa ultima versione quali sono le novità principali se possedevi una versione di windows con media center verrà rimossa in fase di aggiornamento in fase di passaggio dalla pagina di presentazione vuoi comunque visionare le principali novità che apporterà windows 10 innanzitutto diciamo che troverai un mix tra windows 7 e 8.1 con il ritorno del pulsante start che avvierà una schermata che presenterà un insieme di piastrelle stile 8.1 vengono introdotti i desktop virtuali per la precisione 4 ossia dei desktop che puoi affiancare uno all'altro in maniera virtuale per la gestione e la separazione di eventuali programmi che avrai avviato e magari suddiviso per tipologie ciò per migliorare la gestione degli stessi ed evitare di avere molte finestre aperte su un solo desktop con un nuvolo di icone e programmi aperti il browser è stato completamente rinnovato e non si chiama più internet explorer ma microsoft edge è nuovo in funzionalità e con una notevole e piacevole esperienza di utilizzo è stata introdotta anche l'assistente virtuale vocale che è chiamata cortana con cui avrai la possibilità di interagire tramite il microfono e chiedere informazioni fare ricerche avviare applicazioni eccetera per i possessori di smartphone la funzionalità continuum che riprodurrà l'interfaccia del dispositivo mobile sul desktop una volta collegato il dispositivo al pc in pratica è un'estensione dell'interfaccia dello smartphone verso il desktop tutto per aumentare le potenzialità gestionali del dispositivo mobile una nota sulla privacy da tenere in considerazione con windows 10 e nelle sue impostazioni si potrebbe inviare nei server della microsoft ogni operazione che eseguiamo con il pc e dal pc questo perché windows 10 come abbiamo detto prima è un servizio e si vuole fornire il massimo della personalizzazione cercando appunto di plasmare il sistema operativo in base all'esperienza di noi utenti e per fornire quanto più vicino alle nostre esigenze alle nostre aspettative per far ciò naturalmente il sistema operativo e di fatto la microsoft deve sapere tutto di noi questo naturalmente è lecito darmi quel che mi serve meglio di così però il punto è come al solito nella memorizzazione e nella gestione dei dati forniti da noi utenti nessuno può darci la sicurezza se non la fiducia che noi rilasciamo ai detentori dei nostri dati che essi vengano impiegati sempre e solo in maniera adeguata quindi tutto si basa sulla nostra fiducia verso la microsoft scritto questo a momento debito vedremo come gestire le impostazioni in windows 10 per poter impostare i settaggi migliori alle tue esigenze per quel che riguarda la privacy e per quel che riguarda i dati da fornire alla microsoft se vuoi saperne di più la microsoft comunque dedica una pagina a queste informazioni e alla loro politica nella gestione dei dati sensibili dopo questa lunga digressione ti verrà da chiederti allora aggiorno o no beh in base a come la microsoft definisce l'aggiornamento a windows 10 ed in base a come ha impostato i settaggi per gli aggiornamenti windows update del sistema operativo stesso potresti subire passivamente l'aggiornamento questo perché molti sistemi operativi senza che l'utente se ne renda conto hanno impostato come settaggio predefinito quello di installare tutti gli aggiornamenti disponibili senza che noi utenti potremmo esserne a conoscenza quindi un po di attenzione perché questo tipo di impostazione può comportare l'avvio dell'aggiornamento a windows 10 in maniera automatica niente di che è possibile sempre metterci mano entro un certo periodo di tempo ad aggiornamento avvenuto però per evitare ciò è meglio impostare la verifica degli aggiornamenti in maniera automatica in windows update ma lascerei la selezione manuale nella scelta del software da installare così per tenere traccia di ciò che va ad installarsi sul computer al di là di questa nota a margine per sfruttare la possibilità di avere un sistema operativo a vita in maniera gratuita direi senz'altro di sì ma è necessario valutare alcune cose come quella appena definita devi anche verificare la disponibilità come già accennato dei driver e dei programmi che utilizzi per rilevare eventuali incompatibilità ma in questo l'aggiornamento già c'è d'aiuto perché eseguirà una sua diagnosi quando esegui l'aggiornamento e dopo aver attivato windows 10 di fatto acquisisci la licenza che ti porterai sempre dietro infatti all'atto dell'attivazione verrà associato alla macchina un codice univoco definito diritto digitale dando per scontata la condizione di avere un prodotto genuino nel sistema operativo verranno creati dei file che permarranno per un mese dall'attivazione e ti permetteranno di ritornare facilmente alla versione precedente se non ti piacesse o qualcosa non dovesse funzionare questi file verranno rimossi automaticamente alla scadenza se volessi tornare alla vecchia versione dopo tale data non ti resterà che attingere ad eventuali backup di file immagine date creati in precedenza o partizioni di ripristino create dal costruttore del pc altrimenti una bella formattazione con installazione pulita resta il fatto che comunque avendo attivato windows 10 avrai acquisito per quello specifico hardware il codice per una licenza gratuita per windows 10 anche se lo ristallerai tra anni formattando il disco rigido è importante sottolineare che l'installazione o l'aggiornamento a windows 10 garantisce l'acquisizione del codice univoco a vita solo dopo aver verificato l'effettiva attivazione di windows 10 e naturalmente provenendo da windows 7 service pack 1 o windows 8.1 update genuini ed attivati considerato questo si aggiunge un altro sì se non l'hai fatto ancora crea di quindi un file immagine di scorta per mia considerazione le novità vanno sempre testate e dato che comunque non si differenzia poi così tanto dai vecchi sistemi operativi almeno per le funzionalità base altra nota positiva che mi fa suggerire di passare a windows 10 certo non saranno tutte rose e fiori naturalmente come tutti i sistemi operativi ma alla fine un definitivo sì alla migrazione per me è scontato qual è il modo di operare deciso per il sì magari anche su invito mio cosa dovrai fare già detto esegui tutti gli aggiornamenti necessari tramite windows update all'improvviso seguendo questi aggiornamenti potessi trovarti nella sys tray il suggerimento del passaggio a windows 10 ti notifica che per questa tua configurazione potrebbe essere possibile l'aggiornamento se non arriva non ti preoccupare nelle prossime lezioni imparirai come aggiornare o installare il sistema operativo intanto preparati nel ragionare su come migrare in che modo potrai decidere se eseguire l'aggiornamento mantenendo tutte le impostazioni tutti i programmi e i due file oppure mantenere qualcosa di quanto è già presente nel sistema operativo o addirittura rimuovere tutto eseguendo una formattazione e quindi un'installazione pulita cosa che io promuovo sempre se non volessi però procedere una rimozione completa dai un po di pulizia per non mantenere troppe scorie anche con il nuovo sistema operativo termino a questo punto indicandoti la pagina dove sono presenti degli emulatori per scoprire le funzionalità di windows 10 link che riporterò nelle note dell'episodio nella prossima lezione cominceremo a vedere l'avvicinamento a windows 10 in particolar modo come creare un supporto di installazione per windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto Grazie.